L'arrivo dei rinforzi e proteggere la contraerea. Quella batteria terrà alla larga i bombardieri nemici. Difendete il posto di comando e le informazioni che custodisce. Difendi il posto di comando! Prendono il posto di comando! Non devono occupare il posto di comando! Prendono il posto di comando! Non devono occupare il posto di comando! Attaccano il posto di comando! Posto di comando sotto attacco! Due minuti all'arrivo dei nostri rinforzi! Prendono il posto di comando! Prendono il posto di comando! Il posto di comando è caduto! Ma la battaglia non è finita! Non devono ricostruire il ponte che abbiamo distrutto! O il loro carro riuscirà ad avanzare! Impedite gli di costruire il ponte! Costruiscono un ponte! Costruiscono un ponte! il nemico non deve costruire quel ponte il nemico costruisce un ponte non devono costruire quel ponte ponte in costruzione costruiscono un ponte, ponte nemico costruito a metà il nemico costruisce un ponte due minuti all'arrivo dei nostri rinforzi ponte in costruzione costruiscono un ponte quel ponte non deve essere costruito il nemico costruisce un ponte ponte in costruzione il nemico ha costruito il ponte ma non mollate i rinforzi stanno arrivando prendete la sconda di munizioni o la nostra contraerea non potrà sparare protettere la sconda di munizioni bomba nemica sulla scorta di munizioni non devono distruggere la sconda di munizioni abbiamo disinnescato la bomba sono a secco arrivano rinforzi per proteggere la scorta di munizioni due minuti all'arrivo dei nostri rinforzi due minuti all'arrivo dei nostri rinforzi i rinforzi centrato centrato c'è un'arrivo dei nostri rinforzi no le abbraccia armate la scorta di munizioni Hanno messo una bomba sulla scorta di munizioni! Hanno messo una bomba sulla scorta di munizioni! Hanno messo una bomba sulla scorta di munizioni! Fermate quella bomba! La bomba è disattivata! C'è una bomba sulla scorta di munizioni! Ancora un minuto! Disinnescare la bomba! Disattivare la bomba! Tenete a sicuro la scorta di munizioni! La bomba va disinnescata! Mancano 30 secondi! I nemici hanno distrutto la scorta di munizioni! Ma possiamo ancora batterli! I nemici non devono scontare il loro carro armato fino alla contraerea! Il carro nemico avanza! Il carro ripiega! Uccidete i soldati intorno al carro! Il carro è in movimento! Il loro carro avanza! Il carro nemico avanza! Hanno distrutto un nostro cannone! Il carro è in movimento! Il loro carro avanza! Il loro carro avanza! Il loro carro perde terreno! Il carro è in movimento! Il carro è in movimento! Soprattutto un'ду! Non è tutto il carro! Il suo po' di Вот- Il carro nemico avanza! Due minuti all'arrivo dei nostri rinforzi! Non devono distruggere i nostri cannoni! Non devono distruggere i nostri rinforzi! Proteggete quei cannoni anche aerei! Il carro nemico avanza! Il carro ripiega! Fuoco sulla fanteria intorno al carro! Il carro è in movimento! Il loro carro perde terreno! Il carro indietreggia! Ancora un minuto! Il carro ripiega! Un minuto! Un minuto! Il loro carro avanza! Terminate quei soldati intorno al carro! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Il loro carro perde terreno! È in più! Un minuto! Non si! No, no, no. 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 No, no.